Siamo qui con l'LG Spirit versione 4G Vediamo un po' come si comporta con i video Zoom direi buono Torniamo indietro Cambiamenti luminosi abbastanza buoni E andiamo a chiudere su qualcosa di più ravvicinato Magari inquadriamo sia sempre il solito rubinetto E sia anche queste belle foglie che ora è estate Anzi, diciamo che è ancora primavera Ma ormai siamo prossimi all'estate Quindi cominciano ad arrivare anche un po' diverti Bene, direi quindi che è tutto per il video con l'LG Spirit 4G